Signora Presidente, tempo fa mi ha colpito un messaggio che ho ricevuto da una donna, alla cui madre malata oncologica e cardiologica è stato fissato un appuntamento nel 2026. Non sa nemmeno se ci arriverà. Ormai ci sono persone che sono costrette a sperare che la propria malattia corra meno in fretta della lista d'attesa che si allunga. Questa è la situazione. Ci vogliono 45 giorni per un attacco urgente che dovrebbero farti in sei e gli esami non urgenti puoi aspettare anche degli anni. Mancano almeno 30.000 medici, almeno 70.000 infermieri, mentre 21.000 medici sono già fuggiti all'estero e tanti verso il privato. I reparti si stanno svuotando nei pronti soccorso, la situazione è insostenibile. Il personale attuale è stremato, gli eroi della pandemia già dimenticati da questo Governo, a dei turni massacranti. Come pensate, Presidente, di abbattere le liste d'attesa chiedendo loro di lavorare ancora di più? O di tappare i buchi assumendo precari o gettonisti che lavorano pagati a ore? L'unico modo per abbattere le liste d'attesa è sbloccare il tetto alle assunzioni, una norma obsoleta ferma a livelli del 2004. Le chiedo quindi, Presidente, se il suo Governo intenda finalmente togliere il blocco alle assunzioni per la sanità pubblica e mettere le risorse per un piano straordinario. Chiedo una cortesia, però non mi risponda come fa sempre, l'ho sentita anche prima, è però, potevate farlo voi. Non solo e non tanto perché io al Governo ancora non ci sono stata, ma perché lei ha il Governo da 16 mesi e l'Italia aspetta delle risposte ora. Dunque, come giustamente ricorda la collega Schlein e i colleghi che hanno presentato questa interrogazione, il tetto alla spesa per il personale sanitario è stato introdotto nel 2009. E questo ha comportato chiaramente negli anni anche il crescente ricorso ai contratti a termine e il devastante fenomeno dei cosiddetti medici gettonisti che lei citava. Noi quindi ci troviamo a fare i conti con una situazione che si è stratificata negli ultimi 14 anni e non le dirò perché non l'avete fatto voi. Le dirò, collega Schlein, che considero un'implicita attestazione di stima il fatto che oggi chiediate a noi di risolvere tutti i problemi che voi non avete risolto nei dieci anni in cui siete stati al Governo. Grazie per fidarvi di noi, grazie per fidarvi di questo Governo. E le posso chiaramente, ci stiamo lavorando, quello dei medici gettonisti per esempio è un problema di cui questo Governo si è occupato dall'inizio del suo insediamento. Ricordo che è stato il Ministro della Salute Schillace a mandare i NAS nelle strutture sanitarie riscontrando delle irregolarità che erano incredibili, come il fatto che nello stesso ospedale ci fossero medici gettonisti che percepivano anche tre volte più degli altri. È ovviamente un fenomeno odioso sul quale siamo intervenuti con il Decreto Legge 34 del 23, poi convertito, con il quale puntiamo progressivamente ad azzerare questo problema riconoscendo maggiore indennità, prestazioni aggiuntive, benefici pensionistici ai lavoratori del comparto e a chi lavora nel pronto soccorso. E non ci siamo tirati indietro neanche sul problema della carenza di personale e della necessità di aumentare gli organici nelle strutture sanitari, problemi anche questi che non nascono esattamente oggi. Ci stiamo occupando e ci occuperemo anche di questa eredità pesante, compreso il superamento del tetto di spesa che è un obiettivo che abbiamo e che contiamo di raggiungere quanto prima compatibilmente chiaramente con gli impegni di finanza pubblica perché per noi assicurare il diritto alla salute dei cittadini è una priorità assoluta. Anche qui lo abbiamo dimostrato. Lo abbiamo dimostrato portando il Fondo Sanitario ai massimi storici anni del Covid compresi, concentrando le risorse destinate al rinnovo dei contratti pubblici proprio sul contratto dei sanitari, impegno per il quale abbiamo investito 2,4 miliardi di euro con l'obiettivo prioritario, perché lei giustamente lo citava, di abbattere le liste d'attesa ma anche di consentire a chi lavora nella sanità di lavorare in condizioni dignitose e di vedere riconosciuto il valore del suo impegno. La ringrazio. Presidente, la sua risposta non ci soddisfa e le farei anche un'altra domanda. Ma lei è andata al governo per risolvere i problemi o per continuare a fare opposizione scaricandoli sugli altri? No, mi faccia capire, perché io ero stata più delicata di lei. Non ho citato l'anno in cui è stato adottato quel tetto alla spesa che si rifà ai livelli del 2004. La ragione è lei. Era il 2009. E sa chi era ministro di quel governo? Lei era ministra di quel governo. Quindi questo specifico problema l'ha creato lei e non certo noi. Ora, noi, voi avete toccato solo un tetto di spesa, Presidente. Avete toccato quello per aumentare la sanità privata e avete lasciato intatto ad ora quello del personale. Io voglio dire questo. E mi sembra che dichiari molto quello che pensate voi. Secondo voi ci vuole più sanità privata e meno sanità pubblica. Lo sblocco delle assunzioni, però, lo stanno chiedendo quattro regioni di diverso colore politico. Servono più risorse fin cui voi avete tagliato. Non racconti la solita balla del più grande investimento della storia, Presidente. Sono i vostri numeri, nero su bianco, a smentirla. I tanto sbandierati 3 miliardi in più non bastano nemmeno per fare i rinnovi dei contratti né per stare al passo con i costi rialzati dall'inflazione. E voglio dire che la verità è che la spesa sanitaria che si calcola in tutto il mondo sul PIL sta scendendo secondo i vostri numeri. Ai livelli precedenti alla pandemia si vede che non credete nella sanità territoriale che avete tagliato anche nel PNRR e sulle case della comunità, togliendole ai quartieri, alle periferie e alle aree interne. Si vede che non credete, insomma, che ci sia un problema con medici stremati, attese infinite, reparti che si svuotano, ospedali obsoleti, centomila posti letto che mancano. E mi faccia dire, ieri avete dato il colpo di grazia con l'approvazione di una riforma sull'autonomia differenziata che spacca il Paese creando pazienti di serie A e pazienti di serie B. E noi non ci stiamo. Avete fatto cassa tagliando sui disabili. Il suo capogruppo si permette di fare battute sulla salute mentale che è un dramma che riguarda tantissimi italiani, tantissimi giovani che chiedono supporto, a cui voi date la sberla della vostra indifferenza. Ecco, l'idea di sanità, lo ammetta, Presidente, è quella in cui chi è ricco può saltare la lista d'attesa saltandole andando dal privato. E chi è povero invece sta rinunciando a curarsi come hanno fatto 4 milioni di italiani. Non esiste nessuna destra sociale. Questa è una destra letale sul diritto alla salute. E siccome prima l'ho sentita anche sul patto di stabilità, beh, l'ha confermato anche lei. Lei ha accettato un compromesso a ribasso, prendendo atto di quello che hanno deciso Francia e Germania, ma devo dire che nelle scelte di tagli sulla sanità lei si sta confermando la regina dell'austerità.